Nuove colonnine di ricarica per auto elettriche a Teramo installate da Enel X. Quanti punti ci saranno? Allora, attualmente abbiamo installato 12 infrastrutture di ricarica, 12 colonnine, quindi per un totale di 24 punti di ricarica, perché ciascuna colonnina è dotata di due prese. Nello specifico abbiamo 9 colonnine in corrente alternata, quindi ciascuna con due prese che ricaricano con una potenza fino a 22 kilowatt e tre colonnine in corrente continua, cioè con la possibilità di ricaricare anche in corrente continua, quindi con una velocità superiore. Cosa bisogna fare per utilizzarle? Allora, l'utilizzo è molto semplice. L'utente che ha necessità di usufruire del servizio può ricaricare tramite semplicemente una card o tramite l'app, noi abbiamo un'app che può essere scaricata gratuitamente. Assessore, 12 nuove colonnine installate da Enel X dove, in quali punti della città? Le prime quattro che sono partite sono questa qui di Vellebovio, poi c'è ai Tigli, c'è all'Istituto Zooprofilattico e a Piazza Marti di Pennesi. Poi arriveranno anche altre davanti alla ASLA, a Madonna delle Grazie, alla stazione ferroviaria, a Piano Daccio, a Piano della Lenta, forse qualcuno mi sfugge, che si vanno a sommare alle altre già messe da Bicerge nei mesi scorsi, a Via Pannella, al Parco della Scienza, a San Nicolò. In totale in questo momento quante ce ne sono a Teramo? In totale attive sono 6 più 4, 10, tra qualche mese saranno 20, quindi Bicerge e Enel X completeranno sia l'installazione che gli allacci e quindi almeno tra 2-3 mesi in questa città ci saranno almeno 20 postazioni con la possibilità di ricaricare contemporaneamente 50 auto elettriche.